Alcune forme di cistite tendono a cronicizzare e quindi a ripetersi più di tre volte l'anno. Questa è la definizione di cistite ricorrenti. Però prima capiamo perché succede questo. Probabilmente in alcuni casi è dovuta una terapia non adeguata. Molte donne tendono a automedicarsi, quindi a prendere degli antibiotici fai da te. E tendenzialmente c'è un altro fenomeno, anche quello dell'antibiotico resistenza. Cioè l'utilizzo di tanti antibiotici a largo spetto ha creato dei batteri resistenti a determinati tipi di antibiotici. Quindi queste forme tendono a cronicizzare. Un altro motivo è l'alterazione del microbiota. L'avete sentito tantissime volte. Quindi problematiche intestinali relative al microbiota possono favorire il ritorno delle cistite. E un'altra motivazione molto importante per il ritorno delle cistite è quando si altera la barriera interna. La barriera interna che riveste la vescica si chiama urotelio ed è fondamentale perché fa scivolare via i batteri e quindi previene la formazione di nuove cistiti. L'esame fondamentale è l'esame delle urine con l'urinocoltura e l'antibiogramma. Questo che notizie ci dà? Ci dice che tipo di batterio c'è e qual è l'antibiotico più efficace per quel tipo di batterio. E quindi potremmo attuare una terapia mirata per trattare quel tipo di batterio. Gli altri esami che devono essere fatti sono naturalmente una visita ginecologica. Perché? Facciamo un esempio semplice. Una paziente col prolasso della vescica, quindi che si chiama cistocele, tenderà a avere un ristagno di urina all'interno della vescica e questo predisporrà al ritorno delle cistite ricorrenti. Altri esami che vanno fatti naturalmente sono l'ecografia pelvica per valutare sia l'apparato ginecologico che l'apparato urologio, quindi la vescica. E fondamentalmente da questo avremo una prima valutazione del problema cistitico. Grazie.